Bentornati amici di Italia 1 Dai, adesso tu continui a tirarla Una va sopra, una va sotto e via Sì, bisogna farlo nel momento giusto Perché altrimenti te le butta tutte e due giù Vai, attiva Corri Salta, salta, salta Bravissimo Grandi, grande Ammon Grandissimo Ammon Non moriamo Vabbè, spero che qua si salvi in questo punto, dai Con tutta quella fatica Ma ecco, sei salvato, ho fatto uno scattino Anche il capitano del Titanic è tutto tranquilli, ci penso io Sì, è a sposta allora Però hai la calamità attiva, quindi sei ancora a salvo, vai Basta, basta Adesso bisogna fare Bello morire andando all'insù È particolare È diverso Bella E lì è meglio che bravo Perché è salvo per essere infilizzato Scusatamente Salta Ma io dovevo saltare lì Eh, mi sa che era un po' A bocchetto Eh, ma anche a scivolare Lì devi saltare C'era la freccia apposta Ah, ok Sì, no, c'è la corda lì Attaccati alla corda Ricordi, no? Lì c'era una cordicella È lì, è qua lì È lì, è lì Era lì Era lì È lì È lì È solo perché prenderla un po' Complessata la cosa Guarda doveva, è lì Eh, non ci voleva tanto È lì Infatti era lì C'eri quasi Eh, ma tu ma Ma tu ma Hai Hai visto Mira Cioè, creatori di limbo Siete dei malati Degenerati Vuole persistere nel tuo suicidio Eh, sì La fai facile Qua non c'è niente Niente C'è sfuggito qualche dettaglio Non lo so C'è solo quella corda C'è solo quella corda Non Eh, lo sapevo io Bisognava cliccare nel momento giusto Dai che è finita Dai che è finita Dai che è finita Devi Wow Che va tempo, eh Va tempo, va tempo, va tempo Sei morto È andata È andata C'è la cuoia Urco Ok Con calma Eh, sì Dai Ho sbagliato Perché abbiamo bisogno di scendere Per me Spostare la cassa No, non puoi scendere Come no? C'è giù la cassa Bella, questa qua è stata bella Sì È stato uno spettacolo Io ho capito Poi Fate voi Io avevo già capito tre ore fa No, non ci credo Credici, non credici No, non ci voglio credere You better believe it Vai Luca, grazie Oh signor, grazie al cielo Ecco qua Oh, spero, spero Oh, sti Corri, attivi quella calamita Cosa succede? Si attiva da solo Ah, va a tempo? Come fai? Eh, you have to core Vicente Mustila E mo? Sanna giù Attaccati Eh, non puoi Puglia tempo Io questa La chiamo fuori In un modo Madua Questa la chiamo fuori In un modo Io Skills Skills Questa la chiamo fuori In un modo Ma lo sai Dico Buttati Buttati giù Amo Buttati giù Bravo Che bello Anche i pezzi di cadaveri che volano Adesso io Non è che Non che vorrei dirlo Ma Si Cosa vorresti dire? How Vai Io questo Continuo a chiamarlo fuori In una maniera Poi Vedi un po' te Occhio 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 Io vado a piedi Io vado a piedi Perché Io vado a piedi E intanto Stiamo andando a volo Bisogna farla sul ritorno Mica sull'andata Dì Dì Sul ritorno Ti ho detto appena Che bisogna farla sul ritorno E non sull'andata Ma non ci vedevo Non è andata E non Ecco così Vedi Oh Oh È finito Eh sì Aspetta e spera Cos'è Non ci vedo Non è finito Impossibile Perché Perché non hanno spiegato niente Guarda quanto è epico Questo finale Spettacolo No è bellissimo Spiegare Tracca le tue gambette Fine il gioco Esatto Adesso arrivano I bimbi swag Slow motion Vuol dire fine Eh in teoria La luce Lo prende con sé E muore Viti Sono un problema di testa Infatti In realtà è già morto Cos'è sto slow motion? C'è qualche problema Con la CPU? No No non credo Non credo Non credo che Luca Possa avere problemi Con la CPU Anche Con tutto rispetto Ammo No 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 Sta sbattendo la testa Sì perché Non l'ha ancora sbattuta Ma così È come È come È come È come ha cominciato Eh Luca così È come ha cominciato No La tipa Io sono Il tuo padre Non li dai Fatto niente io Eh C'entro niente io No Che schifo Scusa Scusami Alt Tieni Gioco del secolo Ma che razza Di comportazione È questa Com'è che si chiama qua No no Allora A me Dalla Ctash A me Dalla Che cacchio il gioco è Ma che finale è Cosa vuoi capirne Te di robe esoteriche Ma è il peggio Del finale di 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 cosa Di order Amici di Maria De Filippi Sì ma non si capiva La mazza Non è niente Che ha senso praticamente Ma cosa mi rappresenta Sta cosa Allora Il gioco Ma il finale È un'opera d'arte Sì Certo A livello artistico Certo A livello ludico A livello emotivo Ok E a livello Esistenziale Sì per un trichieco forse Non vi ha fatto riflettere Ciao Non vi ha fatto riflettere Questo finale No